Venerdì 12 ottobre, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa Fidas, vediamo cosa è successo nel corso di questa settimana nel mondo del sistema sangue e dell'associazionismo del dono. Partiamo subito con il panorama della sanità che titola Sangue nel 2017, scambiate 70 mila unità tra regioni, garantita l'autosufficienza, l'autosufficienza nazionale per gli amocomponenti è stata garantita anche nel 2017 grazie alla solidarietà tra regioni con circa 70 mila unità scambiate e acquisite, soprattutto da Sardegna e Lazio. Piemonte e Lombardia tra le regioni che hanno contribuito di più, questo secondo il piano elaborato dal Ministero della Salute e del Centro Nazionale Sangue. La produzione di globuli rossi di 42,3 unità per mille abitanti in discesa rispetto ai 44,5 del 2012 che rappresenta il picco degli ultimi anni. La regione con una maggiore produzione è il Molise, mentre quella più bassa è la Campania. Per quanto riguarda il consumo, la Sardegna richiede 66,8 unità di globuli rossi ogni mila abitanti, soprattutto per la presenza di molti pazienti con malattie che necessitano di trasfusioni periodiche come la talassemia. Per il 2018 il piano prevede un fabbisogno a favore delle regioni Sardegna, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania e Toscana per un ammontare complessivo di circa 55 mila unità. Per questo si richiede alle regioni un leggero incremento dell'1,25% della produzione. Fra i mesi in cui è necessaria la maggiore compensazione ci sono quelli invernali perché c'è il picco della stagione influenzale. Il direttore del Centro Nazionale Sangue Giancarno Merello di Unbruno afferma che le carenze all'inizio dell'anno non sono una novità. Se da una parte serve una migliore e puntuale programmazione della chiamata dei donatori per effettuare le donazioni da parte delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue, il problema dell'epidemia influenzale che proprio a gennaio-febbraio raggiunge il suo picco non può essere trascurato. Ancora Quotidiano Sanità, sempre sulla notizia della programmazione, riporta il titolo Piemonte, prima in Italia per la donazione. Il Piemonte ci conferma la regione numero 1 in Italia per la donazione di sangue, in particolare quella che cede più sangue alle altre regioni. Soddisfazione da parte dell'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta, mentre la responsabile della rete trasfusionale regionale rosa chianese ovviamente ricorda come la regione disponga di 400 centri di raccolta, una diffusione capillare fondamentale per raggiungere e mantenere gli eccellenti risultati di questi anni. Mentre Vita.it ci parla un po' di questa novità, il vaccino anche influenzale, raccomandato e gratuito per i donatori, a partire dal lunedì prossimo, il 15 ottobre, in parte la campagna di vaccinazione anche influenzale per la stagione 2018-2019. Per la prima volta quest'anno per i donatori di sangue la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente, in modo da ridurre il calo di sangue disponibile che tradizionalmente si verifica nei primi mesi dell'anno. Lo ricordiamo, si tratta di una possibilità, ovviamente, nessun obbligo per i donatori, ma la possibilità proprio per tutelare i donatori in modo che siano comunque disponibili per donare il sangue ed evitare le situazioni di picco negativo che si verificano in genere sempre all'inizio del nuovo anno, nei mesi di gennaio-febbraio. L'importanza del vaccino è stata ribadita dal direttore del Centro Nazionale Sangue di Umbruno e da Gian Pietro Briora, il Presidente Avis e portavoce protempore del Civis, il coordinamento interassociativo delle associazioni dei donatori. Ci spostiamo in Toscana, Sangue Coldrone, all'ospedale Lotti, la prima mondiale del volo in remoto. Una novità per l'ospedale che si trova a Ponte d'Era, che è un po' la la città famosa per la Vespa, che ha raccolto un progetto, lo spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che sta realizzando il drone. Il servizio trasfusionale dell'ospedale Lotti e il Comune di Ponte d'Era hanno lavorato in sinergia, ci sarà nei prossimi giorni il volo di prova. Il vantaggio di questo strumento è proprio di poter inviare e ricevere sangue in poco tempo, con costi relativi. Offre agli operatori sanitari, dice Fabrizio Niglio, il responsabile del servizio trasfusionale, un vantaggio importante, quello di ridurre i tempi per ricevere il sangue. Questo non significa che nei prossimi mesi e nei prossimi anni avremo il cielo invaso da droni, perché si tratta ovviamente di una misura, per ora limitata all'ospedale toscano di Ponte d'Era, che però può offrire una possibilità in più nella riduzione dei tempi. Si parla ancora di West Nile Virus, a Novara ancora un sangue infettato, è emerso anche in questo caso dall'analisi delle unità di un donatore che non aveva sintomi, confermata per la terza volta nella zona del Novarese, ma in generale in tutta Italia stiamo assistendo a una diminuzione del fenomeno. Mentre l'assessore Luca Coletto, l'assessore alla sanità del Veneto, porta avanti l'iniziativa dando vita ad un coordinamento tra le regioni per l'emergenza West Nile. Infatti afferma, in linea generale abbiamo concordato che le regioni avranno il compito di realizzare il coordinamento dei comuni e offrire l'opportunità di gestire su scala regionale o interregionale le gare d'appalto centralizzato per la disinfestazione, per ottenere risparmi e quindi consentire un aiuto ai comuni per spendere meno e portare avanti in sinergia l'azione di prevenzione nei confronti di questo virus che ricordiamo si trasmette attraverso la zanzara. Torniamo in casa Fidas, Orizzonte Scuola, concorso studenti a scuola di dono, domande entro il 31 gennaio, il sito specializzato per le informazioni nel mondo dell'istruzione ricorda come Fidas abbia presentato il progetto rivolto alle scuole, rivolgendo l'attenzione alle nuove generazioni con il concorso a scuola di dono, con l'intento di promuovere tra gli studenti di ogni ordine e grado la cultura del dono del sangue e degli amocomponenti. Il Presidente nazionale Aldosino Caligaris afferma che con questo bando vogliamo raggiungere sia gli studenti che hanno già raggiunto la maggiorità e che possono fare una scelta consapevole e il responsabile, ma anche i più giovani e gli alunni della primaria, chiamando in causa le famiglie e l'intera comunità scolastica in sintonia con quanto espresso dalla 107 dalla legge della buona scuola che ha sottolineato l'importanza dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. Ci spostiamo in Friuli, la FDS centra l'obiettivo delle donazioni programmate in occasione del 46esimo congresso provinciale della FDS di Pordenone. Il Presidente Ivo Baita ha ricordato la vera natura del volontariato, che non è quello di dire dono quando voglio, ma di essere volontariamente disponibile a donare quello che serve quando serve. Nonostante il calo delle donazioni, la coordinatrice della struttura trasfusionale, Viviana Totis, coordinatrice del sistema trasfusionale regionale, ha sottolineato come la FDS, una di quelle associazioni che meglio ha colto tutti i segnali di cambiamento e che meglio si è messa in gioco e ha saputo rispondere ad essi. L'area vasta di Pordenone è l'unica che riesce a donare interamente su programmazione. E sempre il Messaggero Veneto dedica spazio con un articolo sul congresso della FDS di Pordenone, aumentano i giovani donatori di sangue, riprendendo il tema della programmazione in cui Pordenone è l'unica promossa, sottolinea come i dati sono buoni, le raccolte sono soddisfacenti, tendenzialmente in crescita, soprattutto grazie all'azione fatta nelle scuole di sensibilizzazione verso i giovani. A Gorizia dono del sangue in netta crescita, quindi bilancio positivo per la sezione goriziana Remoria Molloni della FIDA Sisonchina, che sabato festeggia negli spazi del castello la 49esima giornata del donatore. La Presidente Patrizia Zampi ricorda come si sia puntato sulla presenza capillare e sull'informazione. Tuttavia in questo caso si registra la difficoltà nel coinvolgere le giovani generazioni, soprattutto per la difficoltà che nuovi stili di vita hanno nel conciliarsi con il dono del sangue. A Vicenza, FIDAS in prima linea, bilancio in crescita per la sezione di brendola della FIDAS a Vicenza, anche qui una festa del donatore in programma a fine mese, mentre ad Arcugnano il sindaco ha raccolto l'invito proprio della sezione FIDAS di Arcugnano che ha proposto un gemellaggio con i donatori della FIDAS di Ugento e quindi in realtà questa idea che è nata dai donatori si è estesa poi allo stesso comune, quindi comuni di Arcugnano e comuni di Ugento in provincia di Lecce che sottoscriveranno questo gemellaggio. A Venezia una donazione di sangue proprio a testimonia, in realtà proprio in occasione di questa festa dove appunto il cantautore ha partecipato per aiutare la FIDAS locale a raccogliere i fondi, l'annuncio che verrà aperta una nuova sede a Camponogara, siamo nella provincia sud-occidentale di Venezia verso la città di Padova, quindi un dato in crescita ancora per il Veneto. E sempre a Verona Sport e Solidarietà a Braccetto, un'iniziativa della Blue Volley Calzedonia, la società di pallavolo veronese che ha scelto la FIDAS Verona come charity partner sposando nelle iniziative di promozione del dono. Tra queste figura anche il progetto scuole, un calendario di incontri negli istituti della città e della provincia Scaligera per sensibilizzare le giovani generazioni sul bisogno di sangue. La Blue Volley ha invitato anche tutti gli studenti al FIDAS Day all'inizio di dicembre, in occasione di una partita in cui gli studenti potranno accedere al forum, ma avranno anche la possibilità di ricevere ulteriori informazioni sulla donazione del sangue. Il premio FIDAS all'Istituto di Marzio Michetti di Pescara, un'iniziativa portata avanti dal FIDAS Pescara che registra che premia gli studenti dell'Istituto Superiore per il record di donazione dell'Istituto e la Presidente Anna Di Carlo ha incitato i giovani ricordando loro come sia un esempio. In Basilicata FIDAS Barile, protagonista della sesta festa dell'albero dove c'è vita, c'è FIDAS, in occasione di questa festa che si tiene proprio oggi nel comune in provincia di Matera, si pianteranno degli alberi nella piazza centrale, è voluta essere presente anche la FIDAS come succede appunto negli ultimi anni. In Puglia, a Bari, c'è stato un grande incontro allo showbile di Bari, l'evento La Solidarità viva in scena promosso dalla FIDAS di Bari presieduta da Rosita Orlandi ed è stato assegnato a Vittorio Polito, un giornalista e scrittore, il premio Un Amico per la Comunicazione, istituito nel 2001. Il premio è stato assegnato per il convinto e appassionato contributo alla promozione del dono del sangue. E concludiamo con una notizia che viene da Caltanissetta, la FIDAS incontra all'Università per trovare nuovi donatori, un incontro tra i vertici universitari e i rappresentanti della FIDAS Caltanissetta guidati da Carmelo Giardina per la stesura di un protocollo di intesa tra le due realtà per promuovere appunto la cultura del dono del sangue nell'Ateneo di Caltanissetta. Allora io con questa notizia mi fermo, vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi do appuntamento a venerdì prossimo e buon sangue a tutti!